ciao benvenuta si sei stressata? allora io ho un pacchetto giusto per te ho un pacchettino benessere che ti farà tornare il sorriso e ti farà rilassare hai vivi preso appuntamento? si eccoci questo pacchettino benessere comprende un massaggio molto rilassante alle mani così che tutta la negatività, lo stress scivoli via e poi andiamo a fare un bel massaggio alla testa, al cuoio capelluto, riattiviamo la circolazione e ci rilassiamo e poi andiamo su i tuoi capelli con diversi tipi di spazzola e andiamo a spazzolarli delicatamente così andiamo a finire il trattamento rilassante solo per te perfetto ok allora solo una cosa devo mettere i tuoi dati per schiedarti è brutto dire schiedarti però è così per avere i tuoi dati così da mandarti via mail o come preferisci le varie promozioni o le news interessanti che fanno sì qui nel nostro centro mi puoi dire il tuo nome? ok la tua mail ok ora vado a scrivere molto velocemente il pacchettino che farai oggi ok allora per prima cosa ti faccio scegliere un olio essenziale così da soddisfare tutti i sensi allora questo è un olio profumato ha la magnolia ed ha un effetto equilibrante sì è molto dolce poi ho il classico vaniglia il mio preferito poi questo qui ha la lavanda che è rilassante se riesco ad aprirlo e poi ho due non due sì due questi due sono molto particolari figo e rosa sì e poi l'ultimo che ho selezionato per te l'odo e bambù orientale andiamo sulla lavanda andiamo sulla lavanda perfetto mettiamo alcuni gocci una volta una volta avevo un accendino l'ho trovato l'olio profumo ok così ci lasciamo trasportare da questo profumo ok iniziamo utilizzo una crema non è specifica per le mani però mi aiuta a massaggiare mi aiuterà a massaggiare le tue mani e a far scelervi la negatività questa è una crema ai ai fiori di bag iniziamo ok Ok, da più domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scelta trasportare dal massaggio. 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 Man mano che si riscalda, il profumo esce molto. Grazie. La scelta trasportare dal massaggio. La scelta trasportare dal massaggio. Vado a spruzzarti. La scelta trasportare dal massaggio. Alla testa. E poi spruzzerò ancora dopo. Quando andrà a spazzolarti. La scelta trasportare dal massaggio. 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Ok? Ok. Vado ad usare... Questa è... Grazie a tutti. Ok? 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 Ad esempio... Questo limite ce lo diamo noi e dobbiamo essere bravi a saperlo riconoscere. Bisogna staccare da tutto, bisogna chiudere il telefono, bisogna rilassarsi, andare a fare una passeggiata, andare in un parco. Oppure leggere un bel libro, accendere una candela profumata, rilassarsi, cercare di dormire di più. Grazie. Grazie. Sembra quasi una musica. Grazie. 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 Ok. spero che tu ti sia rilassata alla prossima ciao